Per il raffreddore che non vi lascia respirare o che vi fa colare il naso in continuo, applicate il cerotto marrone sulla narice sinistra, quello bianco sulla destra e aspettate qualche minuto. Vedete se diminuiscono questi sintomi, oppure invertiteli, oppure mettetene uno sulla narice del naso, uno sulla punta del naso, oppure lasciando il marrone sul naso mettete il bianco sulla nuca, alla stessa altezza del naso o lasciando il bianco sulla radice del naso, sulla punta del naso, mettete il marrone sulla parte della nuca corrispondente. Questa cosa potete farla anche con la sinusite, mettete i cerotti un po' più in alto dove sentite che i seni nasali sono chiusi, oppressi, infiammati. Potete farlo ovviamente meglio di giorno quando non andate in giro, ma se non ve ne può fregare altrimenti meno, usateli anche mentre andate in giro.